Un intrigo internazionale ricco di colpi di scena dove l'azione si mescola al romanticismo, il tutto condito con una sana dose di ironia che è il vero marchio di fabbrica del suo autore. Massimiliano Buzanca sveste i panni di attore cinematografico e teatrale per calarsi per la prima volta nel ruolo di scrittore. Lo fa con il suo romanzo d'esordio intitolato Che cinema la vita, presentato alle vecchie segherie Mastro Totaro di Biceglie. È la storia di Simone Bianchi, 45enne ex ufficiale della Marina, a cui il destino ha riservato un incredibile viaggio che da Roma, passando per le principali capitali europee minacciate dal terrorismo, lo porterà sino in Afghanistan. L'amicizia, il coraggio, l'amore guideranno il protagonista del libro alla ricerca del bandolo di un'intricata matassa. Simone Bianchi è un eroe normale, sottolinea Buzanca, capace di affrontare i problemi con grande umanità e senso dell'ironia. È un romanzo di avventura, un romanzo che racconta di questo Simone, il quale una notte si sveglia perché viene chiamato da una sua amica in un apparente stato di inagiazione perché ha un problema. Lui corre perché è una sorta di cavaliere errante, o meglio, una persona che avvole bene a questa persona, come tutti noi quando veniamo chiamati da un'amica a correre per vedere che succede. E da lì partono una serie di situazioni talmente strane, talmente stravaganti, talmente anche fuori dal nostro normale che fanno pensare che cinema è la vita. Un pensiero costante accompagna il protagonista del libro durante tutto il suo viaggio. Riuscire a ritrovare una donna senza nome incontrata un giorno per caso, quando tutto appariva fermo immobile, avventure, pericoli erano ancora lontani dal manifestarsi. È la protagonista femminile in ombra dell'intero libro perché all'interno del libro Simone, la prima sera in cui esce e incontra poi la persona, va a salvare o crede di andare a salvare questa amica che lo chiama nel cuore della notte, in realtà si trova davanti a una festa sorpresa perché in quella notte lui compie gli anni e conosce questa fantastica ragazza di cui ricordo solo il nome, sai quando tu incontri una persona, la guardi negli occhi, lei parla e tu la guardi e non ascolti più nulla e poi dopo un po' che ci parli dici come ha detto che si chiama questa? Aspetta un attimo, mi pare Ella, ma Ella come? Antonella, Barbarella, Rossella, ma Raffaella non gli viene mai in mente, in tutto il libro lui man mano che lui cerca di capire che cosa è successo, perché poi gli succedono delle cose, ma che lo allontanano da questa ragazza e lui in tutto il libro cerca di tornare da questa ragazza per cui lei, questa ragazza è sempre presente nel suo obiettivo e in tutto il libro c'è ma come cavolo si chiama questa qua?